Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, questo sarà un video spesa a Lidl in collaborazione con Serena del canale Sere Channel. Vi lascio il link del suo canale, giù nell'info box e anche a fine video. Ma adesso partiamo subito con i prodotti che ho acquistato. Come primo prodotto ho acquistato la pancetta, ne ho preso due confezioni e l'ho pagata 1,99 centesimi. E questa è la confezione da 200 grammi. Ho preso il burro a 1,89 euro e la confezione è di 250 grammi. Di panna ne ho prese due, una costa 0,59 centesimi e contiene 200 ml di prodotto. Ho acquistato questa pizza al costo di 1,99 euro ed è la quattro formaggi surgelata e devo dire che è davvero ottima, quindi ve la consiglio. E questa è di 310 grammi. Ho preso anche al costo di 0,49 centesimi il bicarbonato di sodio che in cucina serve sempre. Io lo utilizzo molto quindi ho deciso di comprare questo. Altra cosa che ho comprato sono i cereali al cioccolato a 1,95 euro e questa è la confezione di 500 grammi. Di passata di pomodoro ho preferito prenderne due confezioni, una costa 0,65 centesimi e contiene 1000 grammi di prodotto. Poi ho preso anche la polpa di pomodoro a 0,35 centesimi e questa contiene 400 grammi di prodotto. Poi ho preso l'origano a 0,59 centesimi, che utilizzo anche questo tantissimo in cucina, soprattutto con il pomodoro. E infine il latte parzialmente scremato a 0,65 centesimi cada uno e ne ho prese due confezioni. Questi sono i prodotti della Lidl che ho acquistato, fatemi sapere voi quale utilizzate e quale mi consigliate. Inoltre vi lascio il link del video di Serena, quindi potete tranquillamente cliccare e sarete subito indirizzati al video di Serena. Ma adesso io vi mando al prossimo video. Ciao! Ciao!